ac milan stagione 2024 2025 episodio 2 si è appena concluso si è conclusa la terza figura di merda vabbè vi voglio abbonare quella col torino perché quella col torino bella prima partita l'abbiamo recuperata sul finale mille attenuanti per me ridicole però ve le voglio concedere per una volta finisce la seconda umiliazione dopo quella di parma stasera l'avversario era nettamente superiore era nettamente forte gioca in un campionato che a noi gioca un campionato che è letteralmente un altro sport parliamoci chiaro noi la premier league manco col binocolo cioè io penso che qualsiasi squadra di serie a in questo momento il premier league lo tenerebbe per la salvezza però tolto tolto questo fattore partita che è andata come praticamente previsto milan è che trova un vantaggio buono dopo tre minuti un gran gol un gol il famoso gol di cattiveria che non facciamo mai perché guardando i gol che abbiamo fatto onestamente non è che ci fosse tutto questo tutto questo questa organizzazione questa cattiveria contro contro venezia una torete due rigori e un calcio d'angolo azioni corali zero capite benissimo che la situazione non è delle migliori però però stasera trovate il vantaggio dopo tre minuti la partita che bene o male fa ben sperare e poi che succede mi siede spenti c'è per voi la partita è fin da dopo tre minuti abbiamo subito il liverpool dal quarto minuto al novantasettesimo compresi cinque di recupero del primo tempo hanno fatto quello che gli è parso zero idee zero organizzazione zero pale lunghe zero passaggi zero tiri a parte un insignificantissimo palo di leao a partita finita io dico no perché certe persone non sono in grado di guardare in faccia la realtà siamo messi male ragazzi io ve lo dico adesso quest'anno se finisce come l'anno scorso è oro colato quest'anno abbiamo addirittura anche la supercoppa quindi una competizione in più da perdere ragazzi la situazione è grave è gravissima le prime partite in allenatore nuovo non sono attenuanti tu investi 250 milioni sul mercato in due anni l'anno scorso esce gironi esce dalla lotta scudetto ottobre esce dalla coppa italia alla seconda partita facendoti rimontare esce dall'europa league giocando discutibilmente contro una squadra che in campionato di arrivata tipo 20 punti sotto quest'anno ragazzi non pensate che andrà meglio cioè io per carità ve l'ho detto fonseca sono stato zitto io in realtà un commentino a maggio ve l'ho fatto vi dissi fonseca è meglio di piori ma non è l'allenatore che risolverebbe le cose e poi ho accantonato l'argomento perché tanto non sapevo che parlare tutta l'estate della solita cosa non faceva bene né a me né a voi poi però il campionato iniziato la prima però passata la seconda già non ve l'ho passata la terza non ve l'ho passata proprio poi la quarta giocavamo contro una che chiamarla squadra in offesa e però volevate e volevate convincervi che le cose fossero cambiate no le cose non sono cambiate perché se guardiamo la prestazione è totalmente in linea con quello che abbiamo visto inizio campionato difesa con la prodo attacco sterile centro campo che non fa filtro cambi tardivi formazione iniziale sparata a cazzo infortuni tutte cose che ci portiamo indietro da anni che non sono state risolte io quest'estate se l'anno prima allenatori sul mercato disponibili non ce n'erano perché poteva essere spalletti che ha lasciato il napoli però evidentemente allenatori forti sul mercato non c'erano queste state ragazzi non le avevate scuse tushel conte allegri sarri avevate una vasta scelta di allenatori sul mercato club che ha lasciato il liverpool vi siete andati prendere un allenatore che era sotto contratto con lille famoso per essere stato in italia e aver fatto ridere i polli vi siete andati a prendere proprio quello c'è a questo punto no io sono dell'idea che non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire e stasera è stata l'ennesima dimostrazione io mi auguravo dopo la partita con la lazio anzi col parma perché ragazzi comunque è un avversario che sottovalutiamo sempre ma comunque un avversario modesto io speravo che dopo il parma speravo la speranza era prossima allo zero però speravo che i giocatori capissero i problemi e nel mese di tempo che portava al derby di domenica di capire quali fossero i problemi di gestirli di migliorarli per poi magari almeno pareggiare il derby e andare poi a provare a fare una stagione dove almeno fino a natale notti lotti per lo scudetto non è così non è così mai ragazzi non sarà mai così quest'anno la passeremo tra tanti alti e bassi tra tante incertezze tra tante tanti punti di domanda e io mi auguro con tutto me stesso che questo allenatore duri ancora poco perché se adesso non me ne siete accorti ci sta ci sta perché sono io che ho perso la fiducia anni fa quindi magari il problema è mio ma questo allenatore ragazzi più va avanti più sarà peggio l'avversario è forte l'avversario è forte per carità però tu non sei lo slovan bratislava non sei la squadra di quarta fascia del campionato indocinese che si è qualificata a gironi già estratti a fine agosto non sei il bodo glimt non sei il locomotive vienna sei il milan e nonostante tu faccia parte di un campionato inferiore a quello tedesco a quello inglese e a quello spagnolo e forse anche a quello francese tu quando giochi se partite tu devi vincere devi pro me a meno provarci avessimo pareggiato due a due vi avrei detto vabbè un piccolo cambio di passo si sarà anche visto però ragazzi no non si è visto siamo ricascati nei soliti errori nella solita merda e vedrete che andando avanti col tempo sarà peggio sarà peggio datemi letta datemi retta e non provate a ammelavigliarvi per la vittoria stemporanea quando arriverà magari poi veniamo umiliati nel derby vinciamo con lecce era tutti contenti perché questa la questa sarà la fine che farete vittoria con lecce magari e tutti contenti stasera non ci siamo a parte l'infortunio di megnana che io ve lo dico adesso per me a partito il crociato sicuro tre quattro cinque sei mesi fuori forse anche di più il problema è che in una squadra dovrebbe esserci giocatori più più e meno forti però qua chi mandi mandi in campo tolto pavlovici che lui gioca sempre bene chi mandi mandi ma la situazione sempre la stessa quindi c'è un problema ve lo dico che è molto molto più a monte rispetto al a quanto possano essere più o meno forti giocatori perché io lo dico l'ho detto l'anno scorso detto anno prima siamo forti perché siamo forti solo che non ci va di dimostrarlo e se continuate a scegliere allenatori come fonseca mi spiace ma sta dimostrazione forse non arriverà proprio mai arriviamo al momento ve lo dico adesso 20 17 settembre 2024 arriviamo al momento che investiremo tantissimo sul mercato prenderemo giocatori forti ma poi a forza di non vincere niente smantelleremo la squadra e poi torneremo a essere scarsi questa sarà la fine che faremo like al video iscrizione al canale ci vediamo domani con la live reaction che mi tocca pure montare che ha capito no e niente ciao uscirà domani e domani continuerà pure la programmazione del canale ciao